Piedina inamovibile dello schieramento di Dalcanto da quando è arrivato a fine gennaio, Maurizio Ceramitaro ha preso un po' di rivincite rispetto alla prima parte di stagione, solo le tre presenze, adesso titolare è fisso. No, ma è subentrata questa opportunità di venire a Vicenza e io ho accettato subito e ringrazio la società e il Mistre che mi hanno dato fiducia. Io stavo bene a Modena, non ho avuto problemi fisici ma erano altri tipi di problemi, perciò ho giocato pochissimo e niente, stavo bene. Quando sono arrivato qua mi sono dato fiducia e mi sono messo a disposizione perché ho trovato un gruppo sano che ha voglia di lavorare, ha voglia di fare risultato e pian piano stiamo crescendo e speriamo di ottenere quella salvezza che ci rende felici a tutti. Sei arrivato però in un momento delicato perché il Vicenza era ed è terz'ultimo, questa squadra merita da quello che hai visto il terz'ultimo posto? No, ma io credo che questa squadra deve fare quello che sta facendo negli ultimi mesi e mezzo da quando io sono qua, se c'è questa mentalità e questo atteggiamento può giocarsela con chiunque e infatti sta dimostrando che è sempre aggrappata lì, nonostante tutto eravamo a 7-8 punti dalla quarta ultima, adesso siamo solo in punti, per una giornata le avevamo raggiunti e peccato per quella partita in casa col Bari che magari quell'approccio dei primi 10 minuti ci è costato la partita perché poi non siamo riusciti a rimontarla, nonostante tutto abbiamo avuto qualche occasione. Lei ha accenato tu che col Bari è andato male, però è andata bene a Padova, è andata bene a Brescia, a Verona, insomma quattro vittorie consecutive esterne e tre sconfitte interne consecutive. Tu l'hai esordito in Serie B dieci anni fa, sei tra gli esperti di questo gruppo, ti sei spiegato perché questo trend? No, io credo che sia solo una casualità, nel senso che nonostante tutto abbiamo perso quelle tre partite in casa, non c'è mai stata una squadra che ci ha suclassato sul piano del gioco, sul piano della mentalità e dell'agonismo. Sono episodi, probabilmente i punti che abbiamo fatto in queste sette partite sono i punti che ci meritiamo sommariamente nelle sette partite perché magari abbiamo avuto qualche episodio a favore fuori casa, tipo Grosseto che siamo riusciti a vincere al 92esimo e magari in casa col Bari e col Sassuolo che meritavamo almeno quanto meno un pareggio in entrambi i match, abbiamo perso tutti e due. Però se tu fai il paragone che a Grosseto prendevi un punto e col Bari prendevi un punto, avevi fatto due punti e non tre. Per questo punto meglio che ne abbiamo fatti tre, guardiamo il bicchiere sempre a mezzo pieno. E' normale che per la gente e per noi che giochiamo in casa nostra deve essere un fortino importante, perciò a casa nostra i punti li dobbiamo fare noi. Adesso sarebbe importante dar continuità proprio in casa, al menti dove si costruiscono le salvezze in realtà. Sì, dove si costruiscono le salvezze, però non dobbiamo fare l'errore probabilmente che abbiamo fatto la frenesia delle altre partite che abbiamo giocato in casa. Magari un po' meno frenesia, essere un po' più lucidi, più tranquilli perché le partite si possono vincere pure al novantesimo come è successo a Grosseto. Perciò affrontiamo una squadra organizzata, una squadra neopromossa, una squadra che ha tanto entusiasmo e noi dobbiamo essere lucidi di andare in campo e di stare tranquilli e cercare di fare quello che sappiamo fare con l'agonismo e con la mentalità giusta che le partite le possiamo sbloccare in qualsiasi momento, però senza frenesia e senza ansia di fare per forza subito il risultato. Al menti sabato arriva una ternana che in realtà di fuoriclasse non ne ha, ma ha un buon organico. Come hai detto tu, è sopra di quattro punti che partita ti aspetti? Alcune volte non lo so se il termine fuoriclasse sia un termine esatto, il termine del nome magari che ci sono dei nomi importanti fanno la differenza. Per chi è in B, l'ha dimostrato il Sassuolo la settimana scorsa, che ha snobbato un po' il Grosseto e ha perso 2-0 in casa. Perciò i nomi non ce li ha, ma io li conosco abbastanza, ne conosco tanti i giocatori della ternana e ti posso dire che ci sono dei giocatori importanti, giocatori dei valori, giocatori di temperamento, giocatori che la categoria la conoscono a memoria. Perciò guai a noi snobbare qualche avversario a prescindere che non ce lo possiamo permettere. Probabilmente gli altri fanno l'errore di snobbarci e magari alcune volte ne hanno pagato a caro prezzo. Si tornerà in campo martedì contro il Crotone, due partite in quattro giorni, fisicamente come stai e come stai? No, fisicamente guarda, è normale che stai non giocando da tanto tempo, ci può stare che magari hai un aspetto fisico un pochettino alto allenante. Però credo che adesso ho accumulato un mese e mezzo di allenamenti, un mese e mezzo di partite, il mister vede e valuta durante gli allenamenti, durante le giornate, perciò il problema non c'è. Noi siamo un gruppo di 30, 25, 26 quelli che siamo tutti titolari, tutti importanti e ci mettiamo tutti a disposizione del mister perché l'obiettivo nostro è quello di arrivare al 17-18 maggio, quello con la salvezza in tasca per il bene di tutti, per la piazza e per questa maglia gloriosa che si merita di rimanere in Serie B. Sotto gli occhi di tutti però che Maurizio Ceramitaro è stato tra i migliori acquisti della compagna di riparazione, tante volte ti sei presentato in area, un palo di testa, anche rovesciata e mancherebbe solo questo gol. Ma guarda, ci sono dei momenti che ti gira bene magari in queste tre, quattro partite che ho fatto, magari che ho avuto quelle quattro, cinque occasioni, magari avrei potuto fare pure due, tre gol, però ogni tanto gira bene, ogni tanto gira male, guarda io preferirei giocare sempre sotto la media, l'importante è che la mia squadra fai tre punti perché alla fine in questo gioco non giochi singolarmente ma giochi in un gioco di squadra, perciò per noi la cosa fondamentale non è il singolo ma è il gruppo, può fare i punti e poi chi fa gol per me può fare pure Bremen, perché il problema non c'è, o Bricchentico me l'ha fatta Brescia. L'importante è che noi facciamo i punti perché noi dobbiamo rincorrere e non possiamo mai staccare perché dobbiamo muovere sempre la classifica per agganciarci sempre di più nelle zone più tranquille.